Buongiorno, pace bene, oggi è il 23 marzo e noi ricordiamo San Turibio, ascoltiamo la sua storia. Turibio nasce nel 1538 a Maiorca da una nobile famiglia, studiò diritto all'Università di Coimbra, venne nominato arcivescovo di Lima da Papa Gregorio XIII, su richiesta di questi Gregorio XIII nel 1580 lo inviò a Lima, in Perù, quando aveva 42 anni. Giunse nella sua arcidiocesi nel maggio del 1581. Subito dovette affrontare la decadenza dei costumi degli spagnoli colonizzatori, promuovendo la riforma del clero, moralizzando i costumi del popolo e ponendo un freno agli abusi. Faceva spesso visite pastorali nella sua arcidiocesi, viaggiando per migliaia di chilometri. Entrava nelle capanne, cercava gli indigeni fuggitivi e con sorrisi paternamente riconquistava a Cristo. Nei suoi venticinque anni di episcopato organizzò la chiesa peruviana in otto diocesi e indisse dieci sinodi diocesani e tre provinciali. Convertì migliaia di indigeni e cresimò tre santi, San Martino di Porres, San Francesco Solano e Santa Rosa di Lima. Nel 1591 a Lima fondò il primo seminario del continente americano. Fu difensore degli indios e rimproverava i sacerdoti favorevoli ai conquistadores. Si spense in una cappellina al nord di Lima il giovedì santo del 23 marzo del 1606 e prima di morire recitò il salmo 122. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Papa Benedetto XIII lo canonizzò nel 1726 e Giovanni Paolo II nel 1983 lo proclamò patrono dell'episcopato latinoamericano. Sant'Uribio si trova ad operare in Perù in un contesto molto molto complicato. Appena avvenuta la conquista da parte di questi uomini che hanno invaso questa terra e in un certo senso stanno un po' stravolgendo quello che era tutto il tessuto anche sociale. Hanno un comportamento un po' violento, un po' non rispettoso verso questa popolazione conquistata e soprattutto per quanto riguarda i costumi morali. Sant'Uribio cerca di intervenire e di riportare un po' di dignità alla situazione che si stava verificando. Un po' la risposta era questa ma noi ci comportiamo così perché così è lecito. E lui a questo rispondeva Cristo è verità, non è costume, ossia non è un'abitudine, non è un modo di fare. Questo ci deve far riflettere anche su quelli che sono i costumi della nostra società, alle cose che noi ci siamo abituati a venere come normali ma che in realtà schiacciano la dignità dell'uomo. In realtà sono peccati che noi abbiamo rivestito con un po' di abitudine e ci siamo abituati ad accettare ciò che invece andrebbe rigettato. Perché? Perché non fa bene all'umanità, non fa bene ai più piccoli e neanche ai più grandi. Quindi invochiamo proprio la protezione di Sant'Uribio che ci dia la capacità di distaccarci prima di tutto con lo sguardo e poi anche con una sana e doverosa denuncia verso tutte quelle azioni che sono violente, che sono di soppruso, che sono di cattiveria e che forse ci siamo abituati a tollerare perché ce ne sono così tante che ci abbiamo fatta l'abitudine. Sant'Uribio prega per noi.